Torna ufficialmente il nome Sulmona Calcio. La FIGC ha accettato il cambio di denominazione dei peligni, che non si chiameranno più Sulmonese o Fena. Nel nuovo simbolo prevalgono i colori biancorossi con la scritta Sulmona Calcio ed in basso lo stemma del comune con le iniziali delle Mistici Ovidiano SMPE, Sulmoni Patria Est. Inizia una nuova avventura, si legge sulla pagina Facebook della società, che al termine della scorsa stagione si è posta subito l'obiettivo di far rivivere il nome della gloriosa squadra scomparsa nel 2008. La denominazione Sulmona Calcio fu ripresa nel 2011 dall'ex San Nicola, ma venne cancellata nuovamente nell'estate 2015 per far nascere la Pro Sulmona. Con il nome Sulmona Calcio, la società del presidente Pier Giorgio Schiavo, ha intenzione di mettere in campo una serie di iniziative di marketing per coinvolgere maggiormente la città. Il logo Annuncia Schiavo verrà utilizzato per promuovere l'immagine della squadra e delle attività convenzionate. Faremo le tessere socio-sostenitore per premiare l'attaccamento, la fedeltà e l'affetto verso i nostri colori. Avvieremo inoltre la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di promozione. Sul frontestadio, intanto, domani mercoledì 12 luglio alle 19, si svolgerà l'atteso incontro con il sindaco Anna Maria Casini e l'assessore allo sport Mario Sinibaldi per fare il punto della situazione in merito alle recenti novità sul Pallozzi, che a breve sarà oggetto dei lavori per la realizzazione del manto sintetico. Alla riunione di domani sera parteciperanno anche i Nerostellati e Lovidiana.